buonasera buonasera ragazzi benvenuti e benvenuti in diretta siamo in onda scusate ragazzi mamma mia guarda che bello dopo tanto tempo torna in tv e allora saluto tutti voi da casa che mi seguite sempre piacchianiti i miei fan dopo tanto tempo mi avevano oscurata però i vertici dell'azienda di telesergio sono riusciti a farcela e mediaset telesergio mediaset naturalmente finalmente appunto risuscita con grande successo alla faccia di tutti quelli che ci vogliono male e torno io come appunto amministratore delegato di questa azienda naturalmente pre presidente appunto assoluto vicepresidente noemi blont assieme a rebecca bambola ferrari che si occupano di caliente tv che appunto un'associata di telesergio quindi i miei vicepresidenti sono loro perché telesergio oltre ad essere diciamo non più oscurata oscurata ma ha vinto in tribunale quindi torna con grande successo ha inclobato caliente tv quindi è diventato una tv di telesergio quindi vai che telesergio grazie io volevo salutare i miei vicepresidenti noemi blont e rebecca bambola ferrari ciao ragazzi vi ho ruolato in questa tv comportatevi bene video dei programmi anch'io voi ok ragazzi io ci conto ma io sono veramente io ringrazio il mio regista si sente tutto quello che dico ma come che bello abbiamo i microfoni e funziona il mio microfono regia regia funziona ma che bello che sento torino che sono amore io ringrazio veramente voi da casa perché siete meravigliosi continuate a seguirmi domani mi trovo di questo questo è una specifiche di telesergio 2 perché ci avevano oscurati come vi ho detto appunto non solo ha vinto la battaglia legale ma telesergio ha inclobato un'altra tv caliente tv che era di rebecca ferrari nancy malone noemi blont noemi blont e rebecca bambola ferrari e la signorina malone di cui non ricordo il nome nancy mi sembra giusto mi stavo seguendo la casa spero di aver detto il nome giusto no e quindi ha inclobato caliente tv e ci si chiama telesergio e due con telesergio new e la nuova telesergio ha inclobato questa caliente tv e non voglio ripetere sembra che si sia capito come non si ma certo e allora ragazzi ma sono veramente contento di essere qui in diretta con voi eh ma sono veramente contento di essere in diretta tv con voi come non sto parlando con dei sardi il pubblico mi sente perché insomma il pubblico ce l'ha alludito fine 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 come stai non diciamo battute per favore facciamo i seri ragazzi e appunto dicevo e tra poco vi daremo i palinsesti il tele sergio come seguirci a tutte le ore il canale canale canali 10 del digitale terrestre sintonizzatevi 24 ore su 24 abbiamo anche il radio sergio che è molto carina seguitela c'è tanta musica internazionale italiane quindi italiane internazionali poi avremo anche dei concerti dopo tele sergio è sempre più grande la nuova media siete sempre che abbiano detto così che poi grazie di buon auspicio eh sono veramente molto contenta di questo guarda perché è fantastico sono emozionato guarda e poi saluto la mia amica un attimo un attimino eh un attimo va bene scusate ragazzi eh eh si sentite quello che ho detto spero di no scusate ma eh no lo stress è lo stress scusate è lo stress va bene ritorniamo a stare i ragazzi sono molto contenta di questo ringrazio la mia amica e collega Barbara D'Ursto che è andata in vacanza se ne è fregata lei di me veramente grazie Barbara eh a settembre ti faccio vedere io guarda quando torno in tv tu eh eh no no si fa la vacanza lei se ne frega io sono stata scurata lei ha lavorato tutto sinverno Barbara ma anche una telefonata mi hai fatto eh ma che hai ragione mica sei ma io dico no eh ringrazio la mia amica Barbara ma chi Barbara Barbara D'Ursto no io e Barbara D'Ursto siamo fratelli gemelli separati dalla nascita eh la nostra madre ci ha detto che ci hanno separato alla nascita perché c'è stato l'amera e quindi ci hanno separato alla nascita no scherzo comunque ad albera io volevo ringraziare scusate ma l'ho stretto sbavato lo so che in tv non ci dovrebbe avere però oh oh eh si torna in tv così eh il bello della diretta eh il bello della diretta eh il bello della diretta eh il bello della direta oh perché ci sono soldi no non ci sono soldi e come ho già detto il pubblico all'audito finica eh all'audito fine all'audito fine all'audito fine no 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 l'orecchino, no no, 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 quanti anni hai, no no, 103, alla faccia, no l'orecchino, all'udito fine, come? Siamo in diretta, siamo in diretta, no, non siamo stretti, siamo in diretta, no no, no no, no no, non siamo stretti, siamo in diretta, oddio, pure con i soldi, perché ci seguono anche i centenari, li saluto tutti veramente, cercate di campare fino a 200 anni, perché insomma a me servite, se no non ci seguo nessuno, no scherzo, ci seguono dai 0 ai 150 anni, 200, insomma, se mi seguono dai 200 anni, e grazie a noi, perché insomma la facciamo campare a lungo, con me, lunga vita telesergio, lunga vita chi la segue, e chi non mi segue, mi capita l'opposto, mi devi schiattare, no scherzo, ma ragazzi si sa che è scherzo, no no, come? Sì, e poi saluto Barbara Duce, la mia amica Mara Veniere, che mi hai insegnato tanto, veramente, storia al mondo, sì, sì, ma che storia, Mara, un bacio, vabbè, noi ci sentimo dopo al telefono, Mara, io saluto la regia Paulino Riccadonna, do la linea alla pubblicità legazione, grazie, augurio, teresaggio, auguri!